La visita del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Salone Nautico di Genova è stata salutata da una folla di visitatori, giornalisti curiosi, a fare gli onori di casa, le massime autorità regionali e di governo. La Premier si è fermata in alcuni stand di prestigiosi cantieri della Spezia, tra i quali San Lorenzo e Ferretti, salendo anche su di uno yacht all'ormeggio, apprezzando la qualità e lo stile del Made in Italy. Ha poi proseguito il suo percorso per recarsi al secondo piano del padiglione B e firmare con il Presidente della Regione, Totti, l'accordo per l'utilizzo dei fondi FSC destinati alla Liguria, prima Regione a poterno usufruire. Si tratta di oltre 265 milioni di euro rivolti mediante investimenti a finanziare progetti cruciali per lo sviluppo della Regione, come quello del confinanziamento del nuovo ospedale Felettino della Spezia per un importo di 15,5 milioni di euro.